Allora, partiamo con la prossima intervista. Domanda semplice, come si chiama e quale azienda rappresenta? Noi rappresentiamo Multidialogo, offriamo servizi per gli amministratori di condominio nei gestionali che usa l'amministratore in studio. Ok, e per chi avete deciso di sponsorizzare il fare un condominio? Siamo amici, prima che colleghi, che collaboratori di Daniele, quindi ci sembrava corretto, giusto, doveroso essere qui oggi con lui, portargli il nostro sostegno e aiutarlo a rendere migliore questa giornata da tutti i punti di vista. Bene, cambiando argomento, invece, quale crescita vi aspettate dagli amministratori di condominio? Ci aspettiamo un salto in avanti su quella che è la parte di contabilità condominiale e anche sull'innovazione tecnologica. Noi offriamo servizi che aiutano l'amministratore a risparmiare tempo direttamente sul gestionale, a eliminare molta carta e a risparmiare quindi i costi occulti che ci sono tutti i giorni nei processi dello studio. E invece quale sinergia vi aspettate dagli amministratori di condominio? Ci aspettiamo un po' più di condivisione di alcune logiche, non ci devono essere sempre i soliti, ci piace dire, ma deve essere una cultura di innovazione digitale che si fa spazio sempre di più e crea anche collegamenti migliori nei passaggi di condomini, nella gestione di fornitori, nella gestione di quelli che sono gli aspetti poi che impattano tantissimo nella vita dello studio. Ottimo, la nostra intervista finisce qui, grazie mille per la soglia di disponibilità.